Gli lasci questa roba impegno e ti fai dare un kilo e mezzo di spaghetti, non pigliare la pasta grossa perché non la digerisco, poi ti fai una bella buatta di pomodoro, perché a me gli spaghetti piacciono pieni di sugo, a proposito, il sugo come lo facciamo, che dici? Con la salciccia? Con la salciccia? Con la salciccia? Con la salciccia, ti fai dare un kilo di salciccia, non pigliare quella stantia, quella già fatta, quello c'è la macchina di vita carne, piglia la pella, l'infila, trrrtata, trrrtata, te la fa davanti a te, chiaro? E poi rimaniamo così asciutti asciutti, solamente spaghetti e salciccia, vogliamo fare la bella padellata di uova, uova in padella, uova? Uova? Sì, allora dieci uova, assicurati che siano fresche, tu le agiti, se sono fresche te le pigli, se no desisti, come le vogliamo fare? Con la mozzarella? Sì, facciamole con la mozzarella, le uova vanno fatte con la mozzarella, ti fai dare mezzo kilo di mozzarella di Aversa, freschissima, assicurati che sia buona, piglia queste dita, premi la mozzarella, se colo il latte, te la pigli, se no desisti, o che altro, niente più, un po' di frutta secca, poi ti fai dare pure 5 lire in contanti e vai fuori, ti rimpetto dal vinaio, a nome mio, qua mi mando da un pasquale il fotografo e ti fai dare due litri di gragnano frizzante, assicurati che sia gragnano, tu lo assaggi, se è frizzante lo pigli, se no desisto, oh che altro, ah tornando qui a casa a fianco al portone c'è il tabacchino, piglio i due sigari, uno per te e uno per me e il resto me lo porti, va?